Ci sono animali velenosi. Io sono Giulia e normalmente vivo sulla mia barca vela, ma in queste settimane sto esplorando l'Equador con uno zaino in spalla. Iscrivetevi al canale e unitevi al viaggio. Nell'episodio precedente ci siamo immersi nella natura incontaminata delle Galapagos. Oggi lasciamo tartarughe e leoni marini e ci avventuriamo nella foresta amazzonica in una lotta per la sopravvivenza. Ciao amici, oggi vi do il benvenuto dall'Amazzonia nel cuore della foresta pluviale sudamericana. Sono arrivata oggi e sono circondata dalla giungla e dalla natura e questo qui è il lodge in cui passerò i prossimi 5 giorni, sarà la mia casa. Sono davvero entusiasta perché è la prima volta che mi trovo nella giungla e non vedo l'ora di vedere, di esplorare questo ambiente, di vedere che vegetazione c'è e soprattutto quali animali ci sono e magari vincerò anche qualche piccola fobia di insetti, rani e serpenti, crocobrilli. Vedremo come ne uscirò. Ma facciamo un passo indietro perché arrivare alla mia casa nella giungla è stata già di per sé un'avventura. Siamo partiti da Quito a mezzanotte per affrontare un viaggio di oltre 13 ore a bordo di un autobus verso la riserva naturale del cui abeno, parte dell'Amazzonia. Dopo una notte interminabile, durante la quale fuori dal finestrino la civiltà ha lasciato spazio alla natura, siamo arrivati a ponte cui abeno, punto oltre il quale non vi erano più strade. L'unico modo per proseguire verso il cuore della giungla era a bordo di una canoa, navigando tra la vegetazione e l'intricato labirinto di corsi d'acqua. Credo che alcune particolari emozioni si possano provare solo un numero limitato di volte nella vita. Così è l'emozione di vedere per la prima volta al mare o la neve cadere dal cielo, la lava uscire da un vulcano o un essere vivente nascere o morire. Si tratta di uno shock, della meraviglia di scorgere un nuovo volto della natura che prima non conoscevamo. Lì, su quella canoa, ho sentito esplodere dentro di me un'emozione preservata per ben 28 anni, qualcosa che non potrò mai più provare nella mia vita, l'emozione di vedere la giungla per la prima volta. Durante le due ore e mezza di viaggio in canoa abbiamo conosciuto la nostra guida, Romulos, nato e cresciuto in questa parte dell'Amazzonia. Fin dai primi minuti, Romulos ha condiviso con noi la sua profonda conoscenza della giungla, indicandoci animali misteriosi, nascosti e mimetizzati dalla vegetazione, che io mai sarei riuscita a scovare da sola. I miei occhi, che prima d'allora avevano solo visto la giungla cittadina, non distinguevano nulla in quel grobiglio verde e il mio dito non riusciva a discernere alcun suono in quel brusio assordante. Solo guidati da chi conosce bene questo volto schivo della natura, i miei sensi si sono a poco a poco affinati a quel luogo sconosciuto. E così, per la prima volta, mi sono trovata faccia a faccia con i suoi abitanti, prime fra tutti le scimmie. Grazie a tutti. Il nostro canoista, un indigeno dell'Amazzonia di nome Nestor, ha ormeggiato la canoa presso la nostra dimora nel cuore della giungla, chiamata Niki Lodge, dove mi sono subito sentita a casa. Le capanne erano completamente immerse nella natura e non poteva essere altrimenti in un posto così. il cibo tipico era delizioso, lo staff epico e le attività di esplorazione molto interessanti. Vi racconto qualcosa in più sulla vita nella giungla. Queste stanze e casette sono sopra levate rispetto al terreno e sono coperte da questo tetto bellissimo, sono tutte fatte di legno e non hanno muri, hanno soltanto una rete per gli insetti che in realtà non va neanche fino su al tetto, quindi gli insetti possono entrare. Quindi la prima regola nella giungla è non spaventarsi se si vedono degli insetti. Ci sono alcuni ragni, alcuni insetti ai quali fare attenzione, ma a parte quelli, gli altri devono semplicemente essere lasciati stare. Però per evitare che insetti e ragni ci si avvicinano durante la notte abbiamo una rete che copre tutto il letto e nella quale possiamo dormire tranquilli senza paura e senza doverci grattare, uccidere zanzare tutto il tempo. Bisogna stare attenti alle punture di zanzare perché possono portare malattie come malaria o febbre gialla, anche se in questa zona ci hanno detto che il rischio è molto molto basso, però bisogna sempre stare attenti. Se vi state chiedendo perché è un pochino buio, lo vedrete nei video, è perché non utilizziamo l'elettricità. Questo lodge, come tutti i lodge, non è collegato alla linea elettrica dell'Ecuador, ma c'è semplicemente un generatore che produce l'elettricità necessaria per la vita nel lodge e possiamo utilizzare l'elettricità soltanto dalle 6 alle 10 di sera e comunque con moderazione. Ed è per questo che mi sto abituando a vedere un po' di più al buio. Anche stamattina, stanotte, non ho utilizzato la luce, avevo la lucina che mi avete visto utilizzare in barca, quella rossa, ma per il resto niente elettricità. Una cosa molto importante quando si cammina, si gira per la giungla è guardare sempre cosa si tocca e dove si mettono i piedi, perché ci sono animali venenosi, tra cui i serpenti e alcuni ragni, come il banana spider, il ragno delle banane. Vi mostrerò alcuni di questi animali se li vedo, ma comunque quando ci addentriamo più nella giungla mettiamo gli stivali di gomma e anche quando camminiamo qui comunque dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi. Ma adesso mi preparo perché stiamo per andare a fare una camminata nella giungla, un po' di trekking e mi metto mosquito repellent, quindi l'anti zanzare, l'anti insetti, vestiti a maniche lunghe, pantaloni lunghi e gli stivali di gomma. Una cosa è solcare i fiumi della giungla sulla canoa e ammirare gli alberi da lontano. Cosa ben diversa è addentrarsi in quel fitto labirinto di vegetazione dove ci si sente come ospiti disorientati. Ho mosso i primi passi timorosi in quell'ambiente ostile, attenta ad evitare incontri ravvicinati con insetti e rettili velenosi. Per quanto meravigliosi fossero colori e forme io la giungla l'ho temuta. È il luogo del pericolo, non ci sono ospedali e per raggiungere il centro medico più vicino bisogna viaggiare per ore in canoa prima ancora di poter chiamare un'ambulanza. Sono certa che non sarei sopravvissuta a lungo senza gli ammonimenti della mia guida. Sopravvivere nella giungla non è cosa facile e solo chi c'è nato può dire di comprendere veramente questo ambiente. Romolos ci ha mostrato come la foresta amazzonica, oltre ad avere il potere di privare l'uomo della vita in un secondo, sia anche la generosa entità che gli dona tutto ciò di cui ha bisogno. Utensili, piante medicinali, sostentamento, acqua purissima e persino tinture. Quelle che sto mangiando sono formiche, sanno di limone. Non sto scherzando, sanno davvero di limone. Sono appena uscita dalla doccia e sono stata sorpresa da un pipistrello che volava in giro nel bagno e nella stanza e adesso si è nascosto da qualche parte, spero non nel mio zaino o nel letto. Non so dove sia, vedremo se uscirà fuori stanotte e inizierà a volare per la stanza. Abbiamo cenato, il cibo era delizioso, veramente molto buono e adesso andiamo a fare una camminata notturna nella giungla. Se la giungla fa paura, è pericolosa di giorno, non oso immaginare di notte, ma è solo di notte che si riescono a vedere alcune specie di insetti, ragni e serpenti e altri animali notturni. Quindi vediamo un po', vedremo se sopravviveremo. Se la foresta di giorno mi aveva fatto paura, uscire di notte mi dava l'impressione di essere in un film dell'orrore. Il buio della giungla è spesso, denso, sembra quasi risucchiare tutto ciò che lo circonda. Per sopravvivere bisogna seguire una semplice regola, esaminare ogni millimetro, non lasciarsi sfuggire nulla. Una distrazione o un passo nella direzione sbagliata potrebbero costarci cari. Rani e serpenti dal veleno letale non avrebbero pietà di noi. Ammetto di aver avuto molta paura durante queste escursioni notturne, non mi fidavo dei miei sensi, inadeguati a quest'ambiente. Ma quella stessa paura è stata spunto di riflessione nelle notti successive, quando immagini di ragni e serpenti infestavano i miei incubi e mi facevano svegliare di soprassalto. Tutte le ansie, tutti i timori che ho avuto nella mia vita, che all'epoca mi parevano insormontabili, nella giungla sono insignificanti. Mi sono sentita sotto pressione, ed è in queste situazioni che si cresce, si diventa più forti, si superano i propri limiti e si alza l'asticella della paura. Le ansie della vita quotidiana diventano irrilevanti di fronte all'unico grande terrore, quello di morire. Ma la giungla nelle tenebre non è solo un racconto del terrore, è anche un ambiente in cui vivono animali innocui, che per volere della natura, si mostrano solo di notte. Ciao amici, oggi vi porto con me in una nuova avventura, scusate il rumore degli insetti, ma sono cicale e la giungla è molto rumorosa. Oggi saremo ospiti di una famiglia di indigeni delle amazzoni, quindi persone che adesso hanno qualche contatto col mondo esterno, ma che continuano a vivere proprio in base alle risorse della natura e hanno un modo di vivere molto diverso rispetto a quello che noi conosciamo. Saremo ospiti di questa famiglia del gruppo degli indigeni Siona. Vedo l'ora di vedere quali sono le differenze tra il nostro stile di vita e il loro stile di vita e soprattutto, visto che già la vita qui nella giungla all'oggi mi sembra estrema, non oso immaginare come sarà vivere effettivamente con persone che vivono a contatto con la giungla ogni giorno. Quindi adesso saliamo sulla canoa, percorriamo un tratto di fiume fino al luogo in cui vive questa comunità. Mentre navigavamo lungo il fiume, la pioggia torrenziale ci ha avvolti. Le cose che magari in città ci danno fastidio, come la pioggia, qui sono parte dell'esperienza. Gli indigeni della comunità Siona vivono lungo il fiume, in semplici costruzioni nel cuore della giungla. Agata, capostipite della famiglia, insieme alle sue figlie, ci ha accolti con un pasto tipico delizioso. Dopo esserci presentati ed aver imparato qualche parola nel linguaggio Siona, siamo usciti fuori sotto la pioggia per vedere il resto della comunità. Gli indigeni vivono a stretto contatto con la natura. Sono gli unici ad avere il diritto di utilizzare le risorse della natura. Nessun altro, neppure i gestori dei lodge, possono tagliare alberi, pescare o cacciare nella giungla. Gli indigeni traggono dalla natura solo le risorse necessarie per il proprio sostentamento e contribuiscono alla selvaguardia della foresta. Agata si è offerta di mostrarci come sia possibile preparare pietanze deliziose partendo da ingredienti semplicissimi. In particolare ci ha coinvolti nella preparazione del pane di yucca, una ricetta tipica indigena. Ci ha guidati nella foresta di banani e condotti al luogo in cui cresce la yucca. Per preparare il pane è necessario estrarre la radice intatta, integra. Quando la si vede farsi strada con il macete non si riesce a credere che Agata abbia quasi 90 anni. dopo aver pulito le radici di yucca le abbiamo grattugiate. Poi Agata e sua figlia hanno sistemato la yucca in una grossa treccia di fibra vegetale e l'hanno strizzata, rimuovendo tutta l'acqua e ottenendo così la farina di yucca. Abbiamo setacciato la farina mentre Agata accendeva al fuoco e preparava la padella. E quando tutto era pronto siamo stati spettatori di una magia. Agata ha versato una scodella di farina di yucca sulla padella, l'ha livellata con le mani e pressata con una noce di cocco. E dopo poco la yucca si è aggregata fino a formare un pane piatto senza l'aggiunta di altri ingredienti. Neppure l'acqua estratta dalla radice è andata sprecata. È servita per preparare dei dolci alla banana cotti sul fuoco. Il cibo era semplice, ma è stata l'emozione di consumarlo in quel luogo a renderlo speciale. E così, sotto la pioggia incessante, abbiamo trascorso una giornata unica insieme ai veri abitanti della giungla, che da secoli sono parte di essa. Siamo per lasciare il lodge, prendere la canoa e andare ad esplorare un posto nuovo che è la laguna, la laguna grande, che è appunto una laguna dove dovrebbero esserci, forse incontreremo i delfini, vediamo, delfini di fiume, pink dolphins, delfini rosa si chiamano, e poi faremo una camminata sulla terraferma e arriveremo alla metà del mondo dove passa l'equatore. Gli spostamenti in Canoa da una parte all'altra della giungla non sono solo momenti di trasporto, ma occasioni imperdibili per immergersi nella natura amazzonica e incontrare alcuni dei suoi abitanti. La nostra speranza era quella di scorgere i rarissimi delfini rosa, specie a rischio di estinzione che vive solo in quest'area dell'Amazzonia. In diverse occasioni abbiamo creduto di vederli, ma quasi sempre si è trattato di un falso allarme. Poi, come se ci stessero ascoltando, finalmente si sono mostrati a noi. Dopo un po', il groviglio di corsi d'acqua si è sciolto nel lago magico chiamato Laguna Grande. Questo luogo mi è apparso come il perfetto punto d'incontro tra terra, acqua e cielo. Prima abbiamo esplorato la terraferma. Ci siamo fatti strada con attenzione tra foglie e liane fino a raggiungere la metà del mondo, il luogo in cui passa l'equatore. Si tratta di un luogo magico dove cresce una pianta rara che produce una delle poche sostanze infiammabili in un ambiente umido come la giungla, dove accendere il fuoco è quasi impossibile. Lasciata la terraferma, ho esplorato la zona sommersa della laguna da sola, a bordo di un sap. Era la prima volta sul sap e ammetto di aver avuto un po' paura di perdere l'equilibrio e cadere nell'acqua nera, abitata da chissà quali animali pericolosi. Ma con mia sorpresa sono riuscita a mantenere l'equilibrio e a godermi all'asciutto uno stupendo tramonto dipinto sul cielo. Ebbene sì, dopo il tramonto siamo tornati all'oggi in canoa nel buio più totale e non senza fare un paio di incontri pericolosi. Ma il timore è sparito quando tornati all'oggi, i nostri amici locali hanno suonato e cantato per noi, rendendoci parte di una grande famiglia in mezzo alla giungla. Le giornate che ho trascorso nella giungla sono state piene di attività nella natura, con un obiettivo principale, sopravvivere, e poi un obiettivo secondario, assorbire il più possibile di questo ambiente selvaggio, ricordandosi sempre di sopravvivere. Al mattino la sveglia era alle 5 e mezza e alle 6 si partiva in esplorazione per ammirare il risveglio della natura, anche se a dire il vero la giungla non dorme mai. Durante le nostre camminate mattutine ci siamo spesso trovati a fare i conti con la pioggia, non peraltro si chiama foresta pluviale, e noi l'abbiamo visitata proprio nella stagione più bagnata. Alcuni momenti sono stati un po' a metà tra il ridicolo e il drammatico, come quando abbiamo attraversato a piedi una palude senza sapere cosa ci fosse sotto. Credo che questi momenti in cui ho fatto quello che più mi faceva paura, camminare dove non sapevo cosa ci fosse sotto, siano stati momenti del viaggio che mi hanno fatta diventare più forte. Grazie a tutti! Dopo colazione e al pomeriggio, di solito esploravamo i corsi d'acqua con la piccola canoa a remi, quanta fatica, che ci permetteva di raggiungere posti segreti immersi nella vegetazione, irraggiungibili con la canoa più grossa a motore. Un'esperienza memorabile è stata quella che ho fatto un pomeriggio con il SAP. Senza più timore di cadere nell'acqua nera e ormai in armonia con la giungla misteriosa, ho percorso diversi chilometri sospinta dalla corrente nel polmone del mondo, in sintonia anche con gli animali che lo abitano. Quella di essere ormai un tutt'uno con quella natura selvaggia che prima temevo è una sensazione che non dimenticherò mai. Non ho più paura di morire. Qui, nella giungla, vita e morte non esistono come concetti distinti. Vi è solo un flusso di energia, che è continuo e ineludibile, travolge ogni essere, lo disgrega e dona nuova forma a ciascuna delle sue parti. Il ramo spezzato caduto nel fiume diventa dimora di piante e alghe. Ciò che un momento fa era un uccello è ora sostentamento per un rettile, che domani cesserà di vivere e sfamerà un'intera colonia di formiche. Come si può parlare di morte senza riconoscere che essa stessa è vita? La giungla ci mostra la verità che la nostra civiltà ci ha fatto dimenticare. Nella grandezza della natura, la parola morte non ha significato. Vi sono solo atomi che si aggregano in forme contingenti, di cui noi, esseri umani, non siamo che un piccolo esempio. Eppure noi vediamo nella giungla un ambiente ostile, pericoloso, inaccessibile. Ci muoviamo quasi solo lungo i corsi d'acqua, su canoe che ci separano da tutte le creature che abitano quel liquido nero. Quando ci addentriamo nella terraferma, negli stretti varchi aperti a colpi di macete, quello che vediamo ci sconcerta. La giungla è un disordine che non capiamo. Tutti intorno a noi, per migliaia di chilometri, vi è solo lotta. Una lotta incessante per la vita. Ogni pianta, ogni animale, ogni minuscolo organismo, usa tutte le proprie energie nel tentativo di innalzarsi più in alto degli altri, per avere più aria, più spazio, più luce, per sopravvivere. La morte dell'uno è solo il rovescio della sopravvivenza dell'altro, solo un tassello nella vita dell'immenso organismo che è la giungla. Logico, no? E allora perché la giungla ci fa paura? Forse perché ci mostra, in modo crudo e palese, la dinamica della nostra vita. La giungla rende esplicita quella lotta che nella nostra società è solo implicita. Anche noi, come piante, alghe e animali, ci spintoniamo e ci strozziamo a vicenda pur di farci strada verso l'alto, pur di ricevere un po' più di luce. Solo che noi non lo ammettiamo, lo facciamo in modo subdolo. E allora, quando siamo circondati da quel groviglio verde, lo temiamo, perché dentro ci vediamo una parte di noi stessi che abborriamo. Il nostro tempo di ospiti dell'Amazzonia sta per giungere al termine. Ma rimanete con me nel prossimo episodio, quando ci trasferiremo in una fattoria dell'Equador e vivremo in una casa sull'albero.